Come ti è avvenuto le facce venire qua? Come? Boh! Ma poi veramente lei ha usato quella parola? Sì, lo giuro. Cioè lei ha detto apericena? Ma... Sì, ho detto... Ma forse scherzava, no? No, 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 no. Ma perché parli così? È pieno di telecamere qua, eh. Cazzo. Cioè sta in alta pure là davanti. Vabbè, cammina normale però. Un'altra luce c'è però. Cammina normale, se no... Questo cammina normale, oh. Ma dove sta questa? Guarda pure là ce ne sta in alta. C'è un'altra luce. C'è un'altra luce. Vabbè. Un'altra là, un'altra là. Secco? Zero? Non ci credo! Chi è? Com'è stato, ragazzi? Ehi, Greta? Ma ciao! Ma che mi raccontate madonna davanti a te? Ma perché non ci vediamo? Dieci anni. Dieci! No, di più pure. A Genova. È un flash. A Genova? Sì. Ma perché siete stati... Ma anche voi ci eravate al concerto di Catano Veroso? Ma non mi sembra? No. E infatti, come state ragazzi? Cosa succede nelle vostre vite? No, io ottima. No, no, procede ottima insomma. E tu? Io non so da dove hai cominciato sinceramente. Non ti preoccupare, comincio io perché vi devo raccontare una marea di cose. Allora, ho fatto un master di finanza a 5.000 euro al mese, convivo con un avvocato. Esco poco, diciamo, qualche aperitivo così in centro, una cosa divertente. Ah, ho incontrato quel nostro amico, quello che veniva al liceo con noi. Come si chiama? Ah, cinghiale. Cinghiale, sì. Cinghiale. Ve le presento, venite, venite, che cafona, scusate, venite, venite. No, 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 non mi lascia da solo, dai, per favore, non fammi il cafone. Ragazzi, loro sono 7-0 e siamo amici da quando siamo bambini.